Il sindaco di San Piero Patti, Salvatore Fiore, non sa se sarà della prossima partita elettorale. In attesa che la regione individui la data e che si trovi la quadra nel suo schieramento, si sta comunque preparando a questo evento straordinario per il Paese. Nella speranza che il Covid allenti la sua morsa e che dunque si possa ritornare presto alla normalità, è davvero necessario che il Paese si rappropri del suo ruolo, organizzando eventi, quali la giornata dello street food, che hanno portato turisti e villeggianti sul territorio, pronto ad apprezzare le bellezze del Paese e le specialità enogastronomiche. Ci presenteremo ai cittadini per avere il loro suffraggio. Non sono ancora dell'avviso di stabilire se mi ricandido al sindaco oppure no. Sto aspettando anche di vedere come evolve la situazione. Abbiamo lavorato con grande impegno, abbiamo avuto un periodo difficile, come l'ha attraversata tutto il mondo e quindi tanti rallentamenti, però alcuni obiettivi li abbiamo raggiunti. Stiamo lavorando, abbiamo avuto circa 14 milioni di euro di finanziamenti, quasi la metà i lavori sono in corso, altri purtroppo pagano dei ritardi burocratici, però io ritengo che il lavoro sia stato fatto. Abbiamo pagato tanti debiti che c'erano, non sempre dovuti a cattiva amministrazione, ma perché maturano le sentenze e come ben sappiamo gli enti locali siamo esposti a questi strali e stiamo andando avanti. C'è un progetto, questo è importante, di prospettiva per il futuro.